nella galleria Cavour una delle più belle che abbiamo qua a Bologna Louise Vuitton rilassate Bottega Veneta cosa fanno? Cazzo! che belle non c'è il prezzo non c'è il prezzo? ah la Cinatovici Montclair Prada Tiffany Tiffany Minchia qui si deve essere anche la Tesla la Tesla quella la guarda no la c'è l'Audi però qualche settimana fa c'era la in mezzo una cosa una Tesla la oh lo sai che hanno lanciato una Tesla con un robot nello spazio adesso è a 3.800.000 km la Terra si chiama di là come si chiama quello lì? Armani Armani boh un peccato andiamo a 4.000 km ok